Siamo arrivati all'episodio numero 54 Non full diamond perché poi non c'è piacere Andrò full oro e basta Ho farmato mending Non immaginate il tempo che ci ho messo a cidere zombie E zombie, meno male che almeno c'ho la farm di zombie Così farmo la carne marcia perché ci sono tanti villaggiari stupidi Che ti danno la carne marcia per degli smeraldi E quindi ho farmato fino ad ora 5 libri con mending Ora proveremo ad inserirli uno nell'arco intanto La prima cosa E poi gli altri nell'armatura Ma non è possibile Non c'ho una freccia perché c'ho l'arco con infinito Dandy visto che non serve a niente Craftami una freccia per favore Eh grazie Dove cazzo è molto? Ok è troppo osso Eh grazie prego Che è bello mi son craftato due picconi in oro Perché non si sa mai che uno si rompe Che hanno un utilizzo Due appena Ma se stanno la durò hanno la durabilità di meno di quella di delineo Ah quindi poi mi devo craftare gli altri ancora Non portate non gli amanti Ma troppo costoso ma vaffanculo pure l'armatura no i pantaloni si viva tieni va ma se no ma non ci posso no ma vero seriamente non posso fare più niente ma anche i piedini ma che c'è un mandy dai l'elmetto e il i gambali me li son fatti però il il resto no eh ma te lo devi fare da capo di nuovo ma che palle oh non iniziare dai ma vedi che c'è picchi minuto attena fa in cura ho spiegato 40 livelli per un una fottuta armatura come si fa 40 livelli per mezza armatura ma se serio non c'è uno sprega di vento nello sprega di ventotto per un piccone 28 uno stupido piccone vabbò raga visto che sto gioco ce l'ha sempre con me ci crafteremo anche nel prossimo episodio un corpetto cerco almeno di incantarlo un minimo poi ovviamente anche i piedini e nulla li inseriremo nelle altre cose sto mandy manco nell'arco vabbè mi devo fare ovviamente anche un arco quanto ti odio minecraft ma quanto quanto vabbè sti libri momentaneamente me li lascio nella cesta con i diamanti momentaneamente perché mi sei carico in un anno nell'altra casa vieni con me andiamo all'avventura andiamo a cercare una miniera babba perché siccome hanno aggiornato i mob ancora sinceramente non li ho provati nella vanilla ovviamente in altri mondi ovvio li ho provati e quindi voglio un attimo vedere come funziona in caso troviamo diamanti mi serve dell'oro cosa assurdo perché dandy mi ha rubato due stacche e mezzo di ore una cosa incredibile ok raga siamo ci ho trovato una miniera dopo vent'anni in pratica sono vicinissimo alla casa sulla neve e niente per trovare una caverna avete capito quanto tempo ci siamo stati ovviamente tutto merito mio che abbiamo trovato la caverna no 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 mi esplode la faccia vabbè novità ma esplode faccia di più ma io non capisco perché ogni volta che vivi tu registre un video no ma è assurdo altro modino min allora va rosc spesplodi ma fin dov'è non c'è più aiuto aiuto mi sa che era la riaposta aspetta aspetta che lo ammazzolio che bobo se volo poste posto sono apporto in mezzo ora perché non devo fermarlo o prendo loro vai dove mi ha spiegato due stacchi e mezzo non deve curare tutto ancora un po' di si il ferro raga mi raccomando lo recupererò camera non lo faccio a recuperarti loro se il piccolino lo posso dire solo il carbone che cazzo dice guarda come piccolo non può prendere sera non quelli no 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 suga l'acqua ti ho mandato mi ha dato che vende il perlo no vabbè dammi il picconino ferro va sinceramente avevo capito che l'oro poteva comunque spaccare i minerali No no Cioè li può spaccare ma non droppa No minchia lo scherzo ci ara Lo scherzo mi ara Bastardo Vai nella lava nella lava Perfetto oro Vediamo se questo lo posso prendere Grazie di Dio che in pratica ho spiegato Sto oro per farmi i picconi La scopra che neanche li posso utilizzare Wow Però vabbè utilizzeremo il piccone in ferro Solo per prendere i minerali L'oro lo utilizzeremo per tutto Non è che ora non li sprechiamo Ovviamente vanno spregati Se no che cosa ci faccio Il problema è che c'è uno scherzo Mentre io laggo Vabbè se muori non fa niente Tanto ormai l'hanno capito tutti No vabbè l'ho ucciso con il lag Però è tipo un piccone in diamante E' velocissimo Sì infatti l'oro è più veloce Del diamante però non è tipo Ma no Ehi Vieni qua Sì Sì Quanto sono stupidi gli zombie C'è un creeper Vabbè fatti esplorio Ma si è desidero di me No Ammazza Redstone va bene raga Non la prendiamo Perché è il minerale più inutile di minecraft Vabbè sinceramente un minerale utilissimo Però io non l'ho mai usato Perché non ho la pazienza Stare lì a perdere tempo A fare il meccanismo Eccetera Quindi la redstone Non la prendiamo Anche perché a casa abbiamo Stacca e stacca Di Di come cazzo si chiama Di Di Vabbè avete capito Ecco di 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 Comunque raga Sta cosa della skin Che mangia come un porco E' una cosa incredibile Io protesto Allora io devo andare a mangiare Eh E quindi Ti posso lasciare nella miniera Tanto non ti preoccupare Non succede niente Dici Certo Non ti gilla uno schereto Oppure un creeper Non ti farà esplodere Tranquillo Faccio questo Allora Vado a reccare voi Continuate Ok Dandy è morto Eh Quindi Non Non verrà più utilizzato Non Non abbiamo Non abbiamo bisogno Di te Ma è online Abbassato la testa Mi faccia di merda Vai Allora prima o poi Se ne devo andare Ok Se ne è andato Stavolta Non è vero No basta Me ne vado Boom Mamma Mamma Non ci credo Vabbè Può capitare Ma Ma Un colpo Mi ha Un colpo Un colpo Mi ha Ma Non hai fatto Io penso Che c'hai Più vita Ma Avevo Dici cuori Che cazzo Vabbè Sì C'ho L'arcobol Ultra Power Ok Però Amica Ho pure Un'armatura Enorma Vabbè Vabbè Dandy È morto Non l'ho Killato Io Il mio Arche Stato Quindi Non ve la Prendo Allora Vediamo Di trovare Qualche Ben diamante Che Sì C'è uno Stacche Un quarto Di diamante Ma Questo C'ho Posizionato Lui Per forza Perché Mi l'ha Piazzato Stavo Dicendo Mi servirebbe Dell'oro Più che Del diamante È strano Da dirsi Però Ho bisogno Di oro Perché Lo ripeto Dandy Non rompere Stacche E mezzo Di oro Adesso Dove Era No 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 Ma No Ma Stai No Cazzo Va bene Va bene Va bene Va bene Ho rotto La spada Quindi Ora Con che cosa Uccidiamo I mob Vi prendiamo A pugni Va bene Va bene Calma 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 Ho visto Dell'oro Allora Visto Che c'è Anche Una miniera Ciao Uh Muore Subito Perfetto Allora Visto Che c'è Una miniera Abbandonata Qua sopra Noi Dobbiamo Essere Più Intelligenti E astudi E Dobbiamo Picchiare I mob Con L'arco Ok Va bene Allora Vado a vedere Un attimo Cosa c'è Qua in basso Diamanti Non credo Comunque Meno male C'è una miniera Abbandonata Almeno Ci facciamo Un bel po' D'oro Allora Posizioniamo Quest'acqua Babba E poi Possiamo Scendere Tranquillamente Diamanti Non Gli piace Oro No Neanche All'oro Ovviamente L'oro Quando ve lo cercate Non c'è Manca ammazzato Invece Quando vi serve Un cazzo Compare L'oro Infatti Se vi guardate I vecchi episodi Della Miniera Io cercavo Diamanti E cosa trovavo Oro Oro E oro Allora Saliamo Qua sopra Sperando Che ci sia Qualcosa Ma porco 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 Non ci muore Non ci muore Quanto Si Vai Contento Però Ora Ma da dove Spawnano No Sono sotto Lo spawner Ma come Può essere Sono così Infortunato Adora Laggano Pure I ragni Va bene Ecco Da là E' spawnato E' spawnato Un ragno E mi kill E mi kill E mi kill E mi kill Aspettate 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 Allora Abbiamo un attimo Bisogno Di Ingegno Quindi Dobbiamo mettere Queste qua Vediamo se C'è una spada In ferro Quel pobo Però mi pare Ecco C'ha pure Una spada Ok Meno male Che l'ho killato Poi Vabbè A posto In testa Di sparo Allora Dobbiamo fare Un attimo Ma da dove Spawnano Ti sti Minchia Di No Eh no Eh no Eh no Ok Torcia Torcia Ok Vediamo se Un attimo Si è rallentato Lo spawner Lo dobbiamo Eh si Però Se ci cali Siamo un po' Un periodo Allora Dove sto Spawner Guardo Illuminiamo E basta Alla ricerca Di oro Ehm Credo sia Qua dentro Lo spawner Perché ci deve essere Capace C'è manco No Finisco Le ragnate Allora Qui non credo Ci sia qualcosa Infatti C'è Della Giaia Oh Daniello Toro Porto No Raga 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 Uno spawner Uno spawner No 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 Allora Calma Posso salire Per favore Ecco Grazie Ok Il primo è morto Però Dobbiamo mangiare Dobbiamo Regurare i cuori Ok Meno male Che ho avuto L'ingegno Di posizionare Qui Questi Blocchi Mori 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 Ok E qui c'è l'ultimo Tiaro Tiaro No No Ho tolto le dolce Sono scemo Ma ora Da quando in qua Lagano Quegli scheletri Ok Spawner Disabilitato Mangiamo E poi la cesta Che schifo Ma che schifo Madonna Madonna Ma non ci posso Credere Ma solo io Posso trovare Tutte queste schifezze Mamma mia Allora Vediamo Di trovare Qualche altra Cosa Ok raga Ho trovato Dell'oro Meno male Andiamo a recuperarlo Dai Un blocco Solo di oro No Ma no Ma no Ma è assurdo Mamma mia Assurdo Assurdo Va bene Meno male Prendiamo quest'altro oro Perfetto Uno Due Poi tre Quattro Cinque Sei Sette Perfetto 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 Qui non c'è nulla Matele Mamma mia Ma sembra rompere Eh va Eh va Ma è morto Ha di nuovo fame Vabbè Lì c'è uno Stupido Zombie Questo Non fa testo Muore Con un colpo Bella 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 sta zona Molto Ricca Di acqua e lava Mi piace Mi piace Ok raga Sto recuperando Altro oro Vediamo un attimo Questa zona Comunque è un bellissimo Canyon Dai livelli 12 Mi ricorda Terza stagione Della VHC Che bello Trovato in quella VHC Cinque Canyon Ai livelli 12 Quindi Hashtag Troppo Culo E hashtag Tanto oro Ecco Perché fare VHC Nei canyon Eh Però Quando Siete in queste Situazioni Manda L'affanculo L'acqua Ok Dai Voglio esplorare Un attimo Questa zona E poi Chiudo L'episodio È già durato Parecchio Ecco qua Altro oro Ecco Ecco Vedete Che bello Quanto siete Soddisfatti Quando trovate Queste bellissime Miniere Eh Basta Qui non c'è più Nulla Qui Neanche Qui Neanche Basta Credo che Da questa zona Abbiamo finito Tutto Quindi Ritorniamo indietro Vediamo un attimo Come è la situazione Eh Basta Allora Vediamo un attimo Da questa parte Qui Come si è ammessi Vediamo un attimo Anche da questa zona Ecco Infatti C'era Del lapislazzulo Ok Abbiamo un sacco Di ferro Ovviamente Lo recupero Fra un episodio E l'altro Il ferro Perché Va E' un materiale Più comune Quindi Lo recupero Poi E anche Un pochino Di carbone Lo dovrei recuperare Perché non ne ho Propria carbone Sembra che Tipo Lo hanno tutti E poi Viene lasciato Sempre in secondo piano Non se ne incula Nessuno E poi Vi trovate Tutti E dico Tutti Senza Carbone Ok Passiamo Stip Blocchi Non piazza Stip Blocchi Va bene Va bene Ok Vediamo un attimo Qua Così Finiamo ormai Il canyon Quindi Per questo video Della vanilla È tutto Ditemi Anche se volete Altri episodi Di esplorazione Comunque Fanno un episodio Dell'altro Piccolo spoiler Sto andando Nel nether Perché Voglio recuperare Le teste Di wither E' uno spoiler Ovviamente Per quelli Che sono arrivati Fino a questo punto Del video Quindi sto dicendo Che sto andando Nel nether A recuperare Le teste Di wither Me ne manca Solo una E poi Andremo ad evocare Quello scarsone Lo arriviamo Quindi basta Raga Diflex E' tutto Bella Ragazzi E' tutto Bella